Posso domandarvi, figlioli carissimi, questa grazia che voi certamente non mi rifiutate. Amate il Papa. Torna in libreria l'ontologia Voi siete figli dei Santi, che raccoglie i discorsi e gli scritti di Papa Paolo VI ai Carminitani. Come casa editrice siamo legati a Paolo VI con il quale condividiamo tra l'altro il compleanno, il 26 settembre. Lui, Giovanni Battista Montini, nacque nel 1897 e noi un po' dopo nel 2005. Sentiamo una profonda unione con lui che è un Papa un po' dimenticato, quasi schiacciato tra la fama del Papa Buono, Giovanni XXIII, e la grande presenza mediatica di Papi come Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco. Un pontefice riservato, tanto che veniva chiamato burlescamente Papa Mesto. Eppure, se si leggono i suoi testi, vi si trova un'attualità ancora oggi dilompente. Per questo, in occasione della sua canonizzazione, abbiamo ristampato il libro Voi siete figli dei Santi, che era già uscito nel 2008 in occasione dei 30 anni della sua morte, che, come ricorderete, è avvenuta il 6 agosto 1978. La nuova edizione ha una nuova copertina, disegnata da Francesca Lancisi, come anche nuovi contributi, l'introduzione di Luigi Accattoli, il profilo del Papa da parte di Roberta Barbi e un'analisi della grafia di Montini a cura di Lidia Fugarolo. Un piccolo libro per approfondire la conoscenza di un grande Papa. Buone letture! Grazie a tutti!